Sant'Omero proseguono senza esito le ricerche dell'operaio scomparso venerdì. Terremoto, la terra trema nell'Aquilano, una scossa nella notte, una in mattinata. Regione, rinvii e sospensioni nella seduta odierna del Consiglio regionale, critiche le opposizioni. Sanità, le priorità del comitato ristretto dei sindaci sono le liste di attesa e la mobilità passiva. Teramo, regolamento Tari, gli imprenditori chiedono a Brucchi misure a sostegno delle aziende. Università d'Alfonso ai rettori abruzzesi, ci sarà una stretta collaborazione. Sport calcio, Teramo inserito nel girone B insieme all'Aquila, Ascoli e Ancona. Amichevoli, il Pescara batte il Teramo ai rigori e vince il triangolare dello stadio Bonolis. Serie D, le cinque squadre abruzzesi verranno inserite probabilmente nel girone F. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Apriamo con la cronaca. Non c'è traccia di Daniele Taddei, l'operaio 31enne che manca da casa da venerdì mattina, quando è uscito per andare a lavorare a Nereto, ma senza arrivarci. Tra breve lo vedrete nella foto che è stata diffusa oggi pomeriggio dai familiari, proprio per agevolare le ricerche. del giovane. Eccolo qui, questo è Daniele Taddei che ricordiamo scomparso da casa venerdì mattina. Ancora per tutta la giornata di ieri, agenti del Corpo Forestale, dei Carabinieri e della Protezione Civile lo hanno cercato per la vallata del Salinello e soprattutto nella zona tra Santo Mero e Mosciano, da cui proverrebbe il segnale del suo telefonino. Un elicottero ha sorvolato l'area, ma non ha individuato la macchina con cui l'operaio si è allontanato. Le battute sono riprese anche questa mattina, ma c'è preoccupazione per le sorti del giovane ed è forte la speranza, ad esempio, che si sia disfatto del cellulare. Sarebbe una giustificazione del perché continui a mandare segnale da quella zona. La famiglia ha diffuso, come dicevamo, la sua foto chiedendo a chiunque lo avesse visto di fornire utili indicazioni attraverso i Carabinieri. Ricordano anche che la sua macchina è una Nissan Micra. Due scosse di terremoto in poche ore fra l'Aquila e Rieti. Nella notte la prima di magnitudo 3 è stata avvertita anche a Teramo. Una replica di magnitudo 2.9 c'è stata questa mattina. Precisamente la prima si è verificata a mezzanotte e 47 di questa notte fra Rieti e l'Aquila. Poi questa mattina alle 8.04 una seconda scossa di magnitudo 2.9 è stata localizzata dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sempre nel distretto sismico Monti della Laga. E cambiamo argomento. Critiche e polemiche durante la seduta del Consiglio regionale di oggi. Muro contro muro tra maggioranza e opposizione sull'assenza in aula di quasi tutta la maggioranza durante il question time del pomeriggio. Sentiamo. Tra maggioranza di centrosinistra e opposizioni, centrodestra e Movimento 5 Stelle e muro contro muro già la terza seduta del Consiglio regionale della nuova legislatura. Mentre il centrosinistra è impegnato in commissione bilancio, la seduta ordinaria dell'Assemblea regionale è stata prima rinviata al pomeriggio e poi più volte sospese e aggiornata. Il question time invece è stato rinviato per la mancata presenza della maggioranza, ad eccezione dell'assessore Mazzocca di SEL, come denunciano il capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo, e il consigliere pentastellato, Fabio Pettinari. Quest'ultimo ha criticato poi il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, per avergli negato i diritti di consigliere. La maggioranza di centrosinistra si è già liquefatta, ha detto Febbo, e un fatto di assoluta gravità ha continuato la presenza del solo assessore Mazzocca alla seduta del question time di oggi pomeriggio. È un fatto che si aggiunge a quello che sta accadendo all'emiciclo da questa mattina. Siamo stati convocati alle 9.30, dice Febbo, per la seduta della commissione bilancio, in cui erano in discussione due progetti di legge, su cui però non c'era accordo neppure all'interno della maggioranza. E il risultato è che dopo oltre sei ore, dice ancora il consigliere di Forza Italia, la discussione in commissione, dopo numerosi rinvii, non si è ancora conclusa. E questo sarebbe l'abruzzo facile e veloce di Luciano D'Alfonso, si chiede Febbo. Le proteste del consigliere Pettinari, invece, fanno riferimento ad una sospensione dei lavori del Consiglio, che ritiene fatta arbitrariamente, considerando un numero legale presunto. Prima della chiusura della seduta e dopo aver constatato che la maggioranza non aveva più il numero legale, ho chiesto di intervenire per una mia dichiarazione sull'ordine dei lavori, in occasione della quale avrei chiesto la verifica del numero legale, dice il consigliere. Purtroppo l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale mi ha negato l'esercizio del mio ruolo di consigliere regionale, negandomi persino la parola. Liste d'attesa e mobilità passiva, sono questi i primi impegni del rinnovato Comitato Ristretto dei Sindaci, che vede due rappresentanti del centro-sinistra e due del centro-destra. Sentiamo. Rinnovato l'organico dei componenti del Comitato Ristretto dei Sindaci. A questo punto, Brucchi, qual è la situazione? La situazione è che con la nuova votazione il centro-sinistra avrà due rappresentanti, il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro e il sindaco di Sant'Omero. Il centro-destra invece ha tre rappresentanti, il sottoscritto, che è il sindaco del capoluogo, che è sempre stato all'interno del Comitato Ristretto dei Sindaci, il sindaco di Atri, Gabriele Astolfi, che c'era anche prima, e il sindaco di Roseto, il mio pavone, che rappresenta un po' la vallata del Vomano. C'è stata questa scelta nel passato comitato, il presente comitato era rappresentata alla montagna e quindi c'era il sindaco di Rocca Santa Maria. Adesso, dietro richiesta dei comuni della vallata del Vomano, si è deciso di rappresentare la vallata del Vomano, ma credo che questo conti poco. Il Comitato Ristretto dei Sindaci, che è un organo consultivo, che non ha potere decisionale nei confronti del direttore generale, deve solo rappresentare le esigenze del territorio e quindi suggerire eventuali soluzioni o comunque segnalare eventuali problematiche del territorio. Non credo che la rappresentanza sia importante, cioè se è legata propriamente a un territorio. Quale sarà il primo impegno del comitato? Io so che il mio assessore regionale Paolucci vuole incontrare tutti i comitati e questo mi sembra una cosa positiva. C'è molto da lavorare, ci sono le liste d'attesa sulle quali bisogna lavorare. Chi c'è stato prima, i direttori sanitari che ci sono stati prima, i direttori generali, hanno risolto diversi problemi. Penso all'ospedale di Sant'Omero, che negli ultimi anni ha guadagnato parecchio in termini anche di presenza, di mobilità attiva, di riduzione di mobilità passiva. Gli imprenditori terramani chiedono al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi misure a sostegno delle aziende a partire dall'esclusione dalla tariffa per aree improduttive e dove si producono rifiuti speciali. Il servizio. Lettera congiunta di sei associazioni datoriali terramane al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi per chiedere misure a sostegno delle imprese nel nuovo regolamento Tari in via di approvazione. A firmarla sono Ercole Cordivari per Confindustria, Alfonso Marcozzi per Lapi, Gian Domenico Di Sante per Confcommercio, Giulio Falone per Casa Artigiani, Gianni Mancini del gruppo Consorform, Gianfredo De Santis per la CNA. Nel documento si rivolge al primo cittadino un appello affinché nella definizione dei criteri per l'applicazione della tassa sui rifiuti si tenga conto del momento particolare che le imprese terramane stanno vivendo. La richiesta è di escludere dalla tassazione le aree dove si producono i cosiddetti rifiuti speciali per i quali i privati già sostengono in proprio i costi dello smaltimento affidandolo a soggetti autorizzati. Quelle dove si producono i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani nel caso non sia garantito il servizio di smaltimento. Le aree scoperte perimetrali accessorie delle utenze non domestiche adibite a qualsiasi uso e non suscettibili di produrre rifiuti come ad esempio parcheggi, piazzali di manovra e strade d'accesso. Nella lettera si chiede inoltre l'esclusione dalla tariffa anche per le aree coperte come per le menze e gli uffici delle aziende nelle quali non si svolge nessun tipo di attività di produzione di beni o servizi a causa di chiusure, crisi o riorganizzazioni. Per le imprese del settore alberghiero le indicazioni sono invece due, una riduzione della tariffa per le attività stagionali e l'applicazione del principio chi inquina meno paga meno, per cui chi effettivamente ospita di meno dovrebbe pagare meno di chi in realtà accoglie di più. Lo strumento di riferimento per definire la tariffa in questo caso dovrebbe essere l'indice di occupazione più dei metri quadrati tassabili. Raccomandiamo in particolare, questo in sintesi l'appello rivolto dai firmatari al primo cittadino, di contenere quanto più possibile la tassazione locale in considerazione del fatto che le imprese non sono più in grado di sopportare ulteriori aggravi della pressione fiscale. Le associazioni di categoria chiedono infine al sindaco un incontro per confrontarsi sui punti del documento da svolgersi prima dell'approvazione del nuovo regolamento Tari. Rispetto ai rumors che mi vorrebbero prossimo all'ingresso nel PD o addirittura pronto ad entrare nella squadra del sindaco Brucchi gli arancioni sorridono e ricordano che ben altri sono i problemi di cui occuparsi. Quanto scrive in una nota il consigliere comunale di Teramo della lista finalmente pomante Gianluca Pomante che prosegue. Quanto alla disponibilità al confronto con gli esponenti della maggioranza e con il sindaco dimostrata nel corso degli ultimi incontri occorre non dimenticare che una città ha scelto di farsi guidare da Maurizio Brucchi e dai suoi sostenitori per i prossimi cinque anni. L'opposizione distruttiva e priva di capacità di analisi scrive Gianluca Pomante che non formula progetti e proposte non ha alcun senso noi arancioni nel rispetto delle istituzioni resteremo indipendenti ascoltando solo i cittadini facendo le nostre proposte appoggiando quelle che riterremo utili per Teramo da qualsiasi parte provengano conclude il consigliere comunale di Teramo Pomante. Poca sicurezza per i pedoni di viale Bovio a causa dell'alta velocità delle auto in transito lungo il viale stesso. Lo denunciano gli abitanti della zona che tornano a chiedere un intervento immediato alle autorità competenti il servizio. In viale Bovio auto ad alta velocità e poca sicurezza per i pedoni e quanto sostengono alcuni abitanti della zona che hanno segnalato più volte il problema senza ottenere nulla dicono. Da quando hanno aperto il ponte Vezzola non si è più sicuri le auto sfrecciano veloci per il viale con pericolo per i pedoni lamentano gli abitanti di viale Bovio che si dicono stanchi di una situazione che ritengono sia diventata insostenibile. La notte non ne parliamo non si dorme dicono ancora è un continuo correre a velocità non indifferente ma in un centro urbano è possibile si chiedono la vicina questura non se ne interessa dicono ancora i cittadini di viale Bovio. I mezzi deterrenti ci sono ma evidentemente sostengono vengono ignorati eppure basterebbero dei dossi per contrastare i pirati della notte sostengono gli abitanti di viale Bovio. Costano troppo eppure si pagano tante tasse e i servizi sono mancanti. I preposti latenti ci deve scappare prima il morto e poi si provvederà concludono gli abitanti di viale Bovio che tornano a chiedere un intervento immediato da parte delle autorità competenti. E torniamo alla cronaca una romena senza fissa dimora di 23 anni è stata arrestata per furto dai carabinieri della compagnia di Giulianova nel corso dell'attività di vigilanza e controllo del territorio. La donna è stata sorpresa dai militari intervenuti su richiesta dei bagnanti con alcuni borselli trafugati poco prima sotto gli ombrelloni della spiaggia di Roseto degli Abruzzi. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Due guidavano senza la patente perché non l'avevano mai conseguita altri due erano ubriachi. Quattro sono incappati nei posti di controllo istituiti dal comando compagnia carabinieri di Alba Adriatica nello scorso weekend sulle strade della Vibrata. Dei quattro denunciati a piede libero i due senza patente sono uno zingaro e un tunisino entrambi residenti a Martinsicuro mentre gli altri due che avevano un eccessivo tasso di alcol nel sangue sono una scolana e un teramano. I loro mezzi sono stati posti sotto sequestro. Nel corso dei controlli sono state sequestrate anche tre autovetture che non avevano la copertura assicurativa. E cambiamo decisamente argomento non solo innovazione ma anche bellezza nelle ferrovie abruzzesi. Ieri molti amministratori compreso il governatore della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso hanno preso parte al viaggio sulle carrozze d'epoca del treno storico della ferrovia del parco tra Sulmona e Roccaraso Castel di Sangro. Il servizio. Sulla autorità della regione Abruzzo tra cui il governatore Luciano D'Alfonso, il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e alcuni sindaci sulle carrozze d'epoca del treno storico della ferrovia del parco tra Sulmona e Roccaraso Castel di Sangro organizzato dall'ente parco nazionale della Maiella e inaugurato all'esercizio turistico lo scorso 17 maggio dalla Fondazione Ferrovie dello Stato italiane come una delle quattro linee storiche che a livello nazionale rappresentano un vero e proprio museo dinamico della storia e dell'esercizio ferroviario. Le ferrovie sono capaci in Abruzzo di promettere e realizzare velocità, di promettere e realizzare bellezza. La velocità e la bellezza sono ingredienti che consentono attrattiva turistica, attrattiva economica, attrattiva, produttiva. Noi vogliamo unirci in matrimonio con le ferrovie perché sappiamo che grande parte del futuro di questa regione dipenderà dalla qualità dei servizi e dalla qualità della presenza delle ferrovie dello Stato. Sono contento di questa bella iniziativa di questa mattina perché cuce come in un riuscito l'uncinetto le bellezze dei nostri ambienti, dei nostri parchi, dei nostri centri storici, dei nostri siti abitati e la straordinaria comodità dello spostamento col ferro e sul ferro. Nel Novecento il ferro non era di moda, nell'Ottocento il ferro era una conquista, adesso nel ventunesimo secolo il ferro continua ad essere una bandiera inseguita di modernizzazione. L'iniziativa di oggi da Sulmona rappresenta la meta verso la quale tutti insieme dobbiamo convergere grazie alle ferrovie e al parco. Il viaggio nella sua fermata a Campo di Giove è stato caratterizzato da una protesta. All'arrivo del treno in stazione tessere elettorali sventolate in aria con la minaccia di riconsegna in caso di soppressione della Guardia Medica del Paese. Il Presidente D'Alfonso dopo aver confermato la proroga del servizio per tutto agosto ha annunciato che il 20 agosto tornerà a Campo di Giove con l'intera giunta regionale per affrontare e risolvere definitivamente il problema. Incontri mensili tra Università Abruzzesi e Regione Abruzzo e la richiesta avanzata dal Governatore D'Alfonso in un incontro con i rettori ai quali ha assicurato una stretta collaborazione tra Regione e Atenei. Il servizio. Incontro tra il Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e i rettori degli Atenei della Regione in vista di una più stretta collaborazione che passerà attraverso il coinvolgimento dei migliori ricercatori presenti sul territorio. A breve ha spiegato D'Alfonso occorrerà decidere quale modello adottare per il piano sanitario e quali alleanze stringere per lo sviluppo dei porti e degli aeroporti ma voglio anche reimpostare il dossier sull'alta velocità. Inoltre una volta all'anno ci doteremo di un rapporto Abruzzo che fotografi la situazione della Regione sotto diversi punti di vista e per la redazione di quest'analisi coinvolgeremo sicuramente i migliori ricercatori presenti sul territorio. Chiesta dal Governatore l'organizzazione di incontri mensili Regione-Università. Da parte loro i rettori hanno indicato priorità quali la riorganizzazione dell'offerta formativa e la rimodulazione delle tasse. Come chiesto da Carmine Di Ilio, Chieti Pescara, per consentire ai giovani abruzzesi di rimanere in Regione e studiare. È avanzato proposte come quella di Luciano D'Amico di Teramo di puntare alla valorizzazione dei nostri migliori laureati e ricercatori e di elaborare un piano delle aree critiche nelle quali intervenire. C'è stato un precedente virtuoso con il tavolo di programmazione 2014-2020, ha spiegato D'Amico. Ora c'è la possibilità di un partenariato coinvolgendo anche gli altri centri di ricerca regionali con i quali esistono già dei rapporti fruttuosi. Finora la collaborazione con la Regione è vissuta sulle iniziative personali, invece ci vuole un'interfaccia unica che ridia dignità alle istituzioni e all'intero sistema, detto il Rettore dell'Università dell'Aquila, Paola Iverardi. L'azione di monitoraggio sulle future trasformazioni è una buona idea, ma vanno identificati alcuni temi. Penso ad esempio alla sanità, ma anche all'agenda digitale e al diritto allo studio. Accantonati dalla Regione i primi 55 mila euro per dare inizio all'abbattimento delle barriere architettoniche in Abruzzo. Il servizio. L'assessore regionale Donato Di Matteo ha annunciato lo stanziamento delle prime risorse per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in collaborazione con il presidente della seconda commissione, Pier Paolo Pietrucci, grazie alla collaborazione del commissario Ater di Pescara e dei dirigenti. In base alla legge regionale 560 del 1993 e la conseguente alienazione di alcuni immobili, sono stati accantonati i primi 55 mila euro per dare inizio all'abbattimento delle barriere architettoniche nella nostra Regione. Con questo segnale iniziamo la battaglia per adeguare le strutture pubbliche della Regione Abruzzo alle esigenze di tutti i cittadini e provvederemo ad incrementare i fondi per i contributi ai privati con disabilità per la stessa finalità. Saranno necessarie altre risorse che riusciremo a stanziare, dice l'assessore. La mia proposta di oggi aggiunge è solo l'inizio, serviranno circa 5 milioni di euro per la copertura totale degli immobili abruzzesi. Il mio impegno sarà di dare applicazione piena alla legge regionale 1 del 2008. Per me e per tutto il nuovo governo regionale, conclude Di Matteo, si tratta di una battaglia di civiltà per mettere tutti i cittadini nella giusta condizione di parità e per consentire loro di poter vivere e lavorare meglio. I bimbi iscritti negli asili nido d'Abruzzo nell'anno scolastico 2012-2013 sono stati quasi 3 mila per una spesa pari a 19 milioni di euro divisa tra comuni e famiglie. Sentiamo. Erano 2.930 nell'anno scolastico 2012-2013 i bambini di età tra 0 e 2 anni iscritti agli asili nido comunali abruzzesi. La spesa impegnata per gli asili nido è stata di circa 19 milioni di euro, di cui 3,5 milioni pagati dalle famiglie e 15,5 milioni a carico dei comuni e quanto emerge da un approfondimento dell'Istat. La spesa media per utente si suddivide tra la quota pagata dai comuni pari a 5.287 euro e la quota pagata dagli utenti 1.216 euro. La percentuale di comuni che offrono il servizio di asilo nido è pari al 36,4%, mentre i bambini che usufruiscono di asili nido sono l'8,8% dei residenti tra 0 e 2 anni. L'1% dei bambini, circa 300, ha usufruito di servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. A Silvi, Sindaco e Giunta si aumentano lo stipendio, eppure le priorità sono altre. Lo sostiene il capogruppo di Silvi Bellissima, Michele Cassone, in merito all'aumento del 10% dell'indennità degli amministratori. Il servizio. Con tutti i problemi che ci sono a Silvi, l'aumento dello stipendio del Sindaco e dei suoi assessori non era proprio una priorità. Lo afferma il capogruppo di Silvi Bellissima in Consiglio Comunale, Michele Cassone, a proposito della delibera sulle indennità degli amministratori approvata dalla Giunta Comunale lo scorso 22 luglio, resa esecutiva e pubblica il 31 luglio. Il provvedimento prevede un aumento dell'indennità di almeno il 10% per il Sindaco, per il Vice Sindaco, per il Presidente del Consiglio Comunale e per gli assessori. Stiamo approfondendo la questione, afferma Cassone, ma l'impressione che abbiamo e che questa delibera di Giunta non sia tanto un atto dovuto quanto piuttosto un atto volontario. Se è così, commenta il capogruppo di Silvi Bellissima, questa delibera è inopportuna, visto il profondo momento di crisi economica e sociale ed inutile, visto che nel provvedimento si dichiara di volersi avvalere della facoltà di riduzione delle indennità del 10%, destinando la somma che ne deriva ad iniziative socioculturali, previa variazione di bilancio da approvarsi entro settembre 2014. Ci chiediamo, aggiunge Cassone, se non fosse più semplice e meno oneroso lasciare le cose come stavano, senza mettere in piedi tutto un processo che sicuramente rappresenta un costo in termini di produttività dell'ente. Ancora, perché destinare la quota eventualmente devoluta ad un'iniziativa socioculturale? A discrezione di chi? Perché non si è deciso invece di destinare la somma derivante dalla riduzione delle indennità al sociale, allo sport, alla scuola o alla risoluzione delle tante problematiche ambientali presenti sul nostro territorio? In ogni caso, annuncia Cassone, il gruppo consigliare di Silvi Bellissima presenterà a breve un'interrogazione per chiarire e rendere pubblici tutti gli aspetti della vicenda. Ci batteremo per tutelare i cittadini, dice il movimento Silvi Bellissima, per il rispetto dei loro diritti e affinché la politica dei privilegi a Silvi sia solo un brutto ricordo. Teo Teocoli ha scelto Pescara per concludere il suo tour. Lo spettacolo del noto comico si è tenuto con successo al porto turistico. Il servizio. Bagno di folla a Pescara presso il porto turistico per il noto comico, Teo Teocoli che con il suo one-man show, restyling, faccio tutto, ha scelto proprio il capoluogo adriatico come chiusura del suo straordinario tour. Un giro per l'Italia che ha regalato al pubblico risate a crepapelle. Uno spettacolo frizzante tra monologhi, gag, parodie, canzoni ed imitazioni sempre all'insegna del puro divertimento visto attraverso la lente dell'ironia. Appunti comici e una fitta galleria di personaggi reali tra cui si annoverano Ray Charles, Cesare Maldini, Adriano Celentano e molti altri, ma anche i soggetti lanciati da lui come ad esempio Felice Caccamo che l'artista di origine tarantina ha interpretato a grande richiesta del pubblico. Teocoli è senza ombra di dubbio un fuoriclasse dello spettacolo italiano. La sua carriera ebbe inizio, non sono mancati a tal riguardo riferimenti nel corso dello show nei primi anni 70 come aspirante e cantante. La sua grande amicizia con Adriano Celentano e le tante avventure nel mondo della musica hanno formato il Teocoli artista, dandogli l'esperienza e la credibilità di uno showman a 360 gradi. Teocoli in uno dei suoi monologhi ha descritto la sua prima partecipazione al noto programma quelli che è il calcio nel quale spopolò proprio con la celeberrima imitazione di Cesare Maldini. Passato e presente si intrecciano dunque come meglio non potrebbero tra gli applausi tanti, davvero tanti, che suonano come il più giusto dei riconoscimenti nei confronti di una star che rappresenta un autentico patrimonio nazionale. E' figlio di boffano, è bello che me ne vada a dormire, sennò ti acciri, un giorno o l'altro me ne vado in galera, devi finire i ometti. Ultimo appuntamento questa sera a Teramo per il cinema all'aperto in Piazza Martiri. Adesso le proiezioni si spostano nelle frazioni. Sentiamo. Successo anche nel 2014 per Cinema Sotto le Stelle. Dopo le numerose serate terramane il cinema adesso si sposta nelle frazioni. Sì, allora abbiamo organizzato due serate di cinema in Piazza Martiri, una ieri sera e l'ultima questa sera, diciamo per concludere la parentesi di eventi in piazza, almeno per questo periodo. Dopodiché ho deciso di portare avanti la scelta di dedicare anche alle frazioni una proiezione di cinema, perché vivono comunque una realtà diversa rispetto alla nostra, non tutti quelli che frequentano le frazioni che comunque sono lì la sera, vengono in Piazza Martiri, hanno la possibilità di vedere concerti piuttosto che cinema. C'è chi non ha la possibilità di spostarsi, anziani che magari vivono una situazione più disagiata. Quindi io ci tenevo particolarmente a dare una piccola risposta, anche se diciamo piccola, però secondo me anche importante. E ho visto che è stata accolta anche con molta gioia. Nelle frazioni mi sono sentita con le prologo e con i referenti, che comunque in concomitanza della proiezione del cinema fanno anche una festa. Mi sono coordinata con loro, insomma io ho fatto delle proposte, ho chiesto anche a loro se avevano qualche preferenza, soprattutto perché molti sono dei bambini, per esempio a spasso con i dinosauri, a Nepezzano è dedicato ai più piccolini. Quindi insomma ritenevo anche opportuno di andargli un pochino incontro senza imporre necessariamente un titolo scelto da me. E poi insomma andiamo avanti e mi auguro insomma di portare avanti questa politica nei prossimi anni. E adesso andiamo a vedere insieme che tempo farà domani con le previsioni di Meteoteramo.it Previsioni per domani in Abruzzo. Al mattino sereno sulle aree colinarie e montane, sereno sulle aree litorane. Nel pomeriggio molto nuvoloso, coperto con locali fenomeni temporaleschi, tra sera e notte variabile, con rovesci di pioggia moderati o intensi. Temperature stazionarie massime comprese tra 25 e 28 gradi nelle conche Aquilane e Marsicane, tra 28 e 31 gradi sulle pianure adriatiche. Venti deboli o moderati settentrionali, mari calmi o quasi calmi. In provincia di Teramo al mattino poco nuvoloso su gran parte del territorio. Nel pomeriggio coperto per nuvi alte e stratificate con deboli piogge, specie sui massicci appeninici. Tra sera e notte variabile, con deboli rovesci di pioggia, specie sulle aree interne. Temperature stazionarie e massime comprese tra 28 e 31 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 27 e 30 gradi sulle coste. Venti deboli o moderati settentrionali, mari quasi calmi. Siamo allo sport, iniziamo con il calcio. Il Teramo e l'Aquila sono state inserite nel girone B della prossima Lega Pro unica. Alla fine prevale il buonsenso e così le formazioni abruzzesi giocheranno insieme al prossimo campionato e dovranno vedersela con le due marchigiane, Ancona e Ascoli, con l'Umbra, Gubbio, con le otto Toscane, Carrarese, Grosseto, Lucchese, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Prato, Tutto Cuoio, con le sei Emiliano, Romagnole, Forlì, Propiacenza, Reggiana, Spal, San Marino e Sant'Arcangelo e l'unica Ligure, il Savoia. Squadre dunque divise secondo il criterio geografico orizzontale, con grande soddisfazione del presidente biancorosso Luciano Campitelli. Nelle prossime ore si conosceranno anche gli orari di inizio delle gare, con la concreta possibilità per esigenze televisive di un anticipo al venerdì e uno al sabato e orari variabili domenicali alle 12, alle 14, alle 16 e alle 18. Ricordiamo che il prossimo torneo di Lega Pro scatterà domenica 31 agosto. Il Pescara ha vinto il triangolare amichevole battendo ai rigori il Teramo. Hanno partecipato alla competizione che si è svolta ieri sera allo stadio Bonolis Pescara, Teramo e San Nicolò. Potrete seguire le gare del triangolare sulla nostra emittente sul canale 15 anche questa sera a partire dalle 20 e 45, ma seguiamo il servizio sull'iniziativa. La vittoria del triangolare amichevole tra Teramo, Pescara e San Nicolò è andata ai delfini biancazzurri del Pescara. Le amichevoli giocate allo stadio Gaetano Bonolis di Piano Daccio sono state un test importante per le tre formazioni abruzzesi che hanno potuto mettere benzina nelle gambe e consolidare i meccanismi di gioco. Il primo match, quello tra San Nicolò e Pescara, ha visto vincere la squadra di Mister Baroni che si imposta con la rete di Pucino su cross di Lazzari. La squadra di Mister Epifani ha comunque giocato un'ottima gara considerando le due categorie di differenza tra le squadre. Il Teramo invece è sceso in capo nel secondo match affrontando proprio il San Nicolò. Il capitano Andrea Bucchi ha deposto un mazzo di Fiori sotto la curva est prima dell'inizio dell'incontro in ricordo del noto tifoso biancorosso Stefano del Palazzo, scomparso prematuramente due giorni fa. La partita nei primi dieci minuti ha stentato a decollare. Al ventisettesimo però una bella azione di prima tra Bucchi, Di Paolo Antonio e Fiore che sfrutta l'assist del capitano biancorosso sigla il vantaggio del Teramo. Il San Nicolò è ben messo in campo ma capitola nuovamente allo scadere. Al quarantaquattresimo Di Paolo Antonio serve Bucchi che di prima lancia nel corridoio Donnarumma. Cinquanta metri di corsa per l'attaccante Teramano che arriva davanti a Palombo e segna 2 a 0. Si arriva così all'ultimo e decisivo match tra Pescara e Teramo. Al diciannovesimo è il Delfino Pescara passare in vantaggio. Il cross morbido dalla sinistra di Cutolo è preda di Maniero che di testa trafigge Tonti e porta in vantaggio i suoi. Il Teramo ci prova e al trentaduesimo trova il pareggio con Buonaiuto che segna un gol spettacolare. Nemmeno il tempo di festeggiare per i tifosi del diavolo che i biancazzurri si riportano avanti un minuto dopo con Caprari, il migliore della serata tra i biancazzurri. Quando tutto sembra ormai finito al quarantaseiesimo Petrella pareggia. Buonaiuto entra in aria e tira, Fiorillo respinge ma non trattiene e così Petrella può insaccare di tapin. 2 a 2. Ai calci di rigore vince il Pescara 3 a 6. E adesso andiamo ad ascoltare gli allenatori Vivarini del Teramo ed Epifani del San Nicolò. Stiamo lavorando, abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo lavorato molto sulla mentalità, sullo spirito di squadra e sul gruppo e oggi sotto questi aspetti ho avuto una risposta importante. Che sia la prima che la seconda partita ho visto una squadra che aveva voglia di aggredire, di correre, di ripartire. Abbiamo giocato a viso aperto come piace fare a noi, quindi queste sono le due cose positive. Però è chiaro che poi dobbiamo lavorare tanto perché abbiamo da migliorare per esempio la fase di costruzione nel primo tempo, abbiamo sbagliato tanto nel trovare gli appoggi, nel trovare le giocate giuste e soprattutto anche nelle ricomposizioni. Lasciavamo troppo campo, ci alzavamo un pochettino troppo, dobbiamo registrare un pochettino tante cose. Chiaro che siamo un cantiere, accettiamo le cose positive perché noi siamo una squadra giovane che ha bisogno di entusiasmo e penso che queste partite ce le hanno date. Molto positivo, molto positivo un pochettino su tutti perché hanno dimostrato le loro potenzialità che io conosco. Diciamo che Diagite starà al 40% per quello che può essere le sue capacità. C'è un giocatore molto fisico, molto esplosivo quindi ha bisogno di un pochettino di tempo per trovare la migliore condizione, però penso di essere cavato abbastanza bene anche lui oggi. Usciamo fuori da questo triangolare molto contenti che il lavoro vuol dire che sta continuando bene perché continuiamo un lavoro che è già partito l'anno scorso e sono contento dei nuovi perché si stanno inserendo veramente molto velocemente. Sono soddisfatto di tutte e due le prestazioni, sono soddisfatto del modo di stare in campo, del modo di giocare, del modo di aggredire perché credo che sia la cosa fondamentale. Dobbiamo ancora lavorare tanto perché siamo a nove giorni dall'inizio della preparazione quindi cercheremo da qui a Ferragosto di migliorare sempre di più. E prima del triangolare il Teramo Calcio è stato presentato ufficialmente a stampa e tifosi il servizio. Nella sala conferenze dello stadio Gaetano Bonolis di Piano Daccio si è svolta la presentazione ufficiale a stampa e tifosi della squadra e dello staff tecnico del Teramo Calcio. A parlare per primo è stato il patron biancorosso Luciano Campitelli che ha detto al di là del raggruppamento in cui saremo inseriti nutriamo l'ambizione di fare bene perché siamo convinti di aver allestito una buona compagine. Insieme al presidente Campitelli è intervenuto il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi che ha portato grandi novità al popolo biancorosso. Il mese di settembre ha detto Brucchi potrebbe risultare quello giusto per la completa riqualificazione dell'acqua viva nell'ottica di un progetto di miglioramento delle strutture per il settore giovanile biancorosso. Subito dopo c'è stata la presentazione della squadra e dello staff tecnico e dirigenziale inframezzata dal momento dedicato alle nuove divise ufficiali. La prima maglia a strisce verticali, la seconda rossa e la terza sul grigio a richiamare la stagione vincente in eccellenza. Le cinque squadre abruzzesi di Serie D verranno probabilmente inserite nel Girone F, il servizio. Girone in sovrannumero e nessun ripescaggio in Serie D. Questo l'esito del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale di Lettanti che ha ratificato la rinuncia di quattro società, nonché le indicazioni della Covisod, che ha accolto 30 ricorsi di società bocciate in primo grado, a respinto soltanto quello della Giada Maccarese, ufficializzando così l'organico del nuovo campionato di Serie D 2014-2015. Rispetto alle 171 a 20 diritto, sono 163 le società iscritte considerati ripescaggi in Lega Pro di Torres, Martina Franca e Aversa Normanna. A queste si aggiungeranno Padova e Siena, dopo la rifondazione. Saranno pertanto 165 in totale le società da suddividere in nove gironi, alcuni dei quali saranno così, in sovrannumero. Sembra già definito il nuovo Girone F, con la conferma di cinque squadre abruzzesi, dieci marchigiane e tre molisane. Salvo improbabili sorprese, il raggruppamento sarà così composto. Amiternina, Campobasso, Castelfidardo, Celano, Chieti, Civitanovese, Fano, Fermana, Giulianova, Iesina, Maceratese, Matelica, Olimpia, Agnonese, Recanatese, San Benedettese, San Nicolò, Termoli e Vispesaro. Niente da fare per l'Avezzano, ottavo nella graduatoria dei ripescaggi, nell'anno in cui la riforma della Lega Pro ha prodotto nove retrocessioni in più. Troppe per sperare. E adesso il basket. La società Roseto Sharks ufficializza l'ingaggio del primo atleta americano. L'ala piccola Devon Aser, altezza 1,97 m, è nato a Baltimora e sbarca così nel campionato italiano. La società ha sicuramente aggiunto un importante tassello al completamento del roster. Colpo del pentateramo, firmato Giorgio Palantrani, un'ala classe 84, 192 centimetri. Per Palantrani si tratta di un ritorno a Teramo dopo gli anni trascorsi con il settore giovanile della Teramo Basket. In chiusura vi ricordo che questa sera a partire dalle 20.45 sulla nostra rete potrete seguire il triangolare tra Pescara, Teramo e San Nicolò che si è giocato ieri sera allo stadio Bonolis di Piano Daccio. E con questo è tutto. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie a tutti.